Benvenuti in questo secondo video tutorial dedicato alla serie Visual Studio. Oggi vedremo come creare un'installazione per il progetto corrente. Iniziamo col creare un progetto rinonimandolo a piacere. Infine, strutturato il nostro progetto, andiamo su Compila, Pubblica, Prova, Secondo Tutorial. Verrà aperto un pop-up da configurare il setup. Qua possiamo andare a scegliere il percorso dei nostri file. Per semplificazione scelgo il desktop. Facciamo su Avanti. Qua scegliamo l'ultima opzione, CD-ROM o DVD-ROM. Nel caso si tratta di un'installazione su computer. Nel terzo caso facciamo Non controllare la disponibilità di aggiornamenti. Nei tutorial successivi potete spuntare la prima voce contro la disponibilità di aggiornamenti dal seguente percorso. Potrete attivare questa funzione quando andremo a vedere come creare un aggiornamento del nostro progetto. Dunque per ora ci limitiamo a fare la seconda opzione. Facciamo su Avanti e Infine su Fine. Dovremo aspettare qualche secondo e come vedete nel nostro desktop troveremo i file di installazioni. Sono tre. Application Files, il file eseguibile ed il setup. Per semplicità vado a raccogliere tre file sul desktop. Per avviare la nostra installazione andiamo su Prova secondo tutorial. Qua ci verrà chiesto di installare o di non installare. Siccome si tratta di un'applicazione senza autorizzazioni. E come vedete il programma è stato installato correttamente. Siccome si tratta di un'applicazione, siccome miLD è gratuito con già chiude tutto. Grazie a tutti.